Fatto il referendum sulle trivelle, la campagna elettorale e amministrativa conferma forti divisioni a sinistra, ma soprattutto nel centro-destra, con quali scenari? Intanto partiamo esattamente dal referendum sulle trivelle, perché ha dato un ulteriore segno, un ulteriore monito alla politica, cioè a noi, fare dei quesiti che sono pretestuosi, inutili e inconsistenti, alla fine portano i cittadini a non andare a votare e a disaffezionarsi. Evitiamo che questo accada, cioè come si fa a dire che se uno trova un giacimento, ha aperto una piattaforma petrolifera o del gas, questa non si deve sfruttare fino al suo esarimento. Questo deve essere il monito anche per le elezioni amministrative, le elezioni amministrative possono essere una grande opportunità per tutti noi della politica e i cittadini di ricollegarsi, si vota per i comuni, si deve scegliere per chi sarà il miglior sindaco, ci si confronti sui contenuti e la si smetta di trasformare le elezioni amministrative come un referendum, come qualsiasi cosa, in un derby calcistico tra tifosi. La gente ne ha piene le scatole e o la politica capisce questo, oppure il rischio ovviamente è che la disaffezione sia ancora più ampia. Ma queste elezioni dovrebbero anche essere una prova di coalizioni, coalizioni che sono profondamente divise, è così? Ma noi ci presenteremo in tutte le grandi città con una formazione che si chiamerà a seconda delle città, Milano popolare, Roma popolare, Napoli popolare e alle elezioni amministrative si sceglie chi sarà il candidato sindaco migliore e quale coalizione rispetto a quel candidato sindaco può aiutare ad attuare le politiche per migliorare la propria città. A Milano per esempio noi giustamente abbiamo scelto Stefano Parisi e siamo in una coalizione di centro-destra, siamo tornati tutti insieme. Ma il banco di prova maggiormente cruciale sarà probabilmente il referendum di ottobre sulle riforme costituzionali, è così? Cosa ci aspetta? Io sono convinto di sì, ma mi dispiace per come è la piega che sta prendendo. Le opposizioni pensano che si debba usare, l'hanno tentato con il referendum sulle trivelle, si debba usare il referendum sulle riforme costituzionali per mandare a casa il governo ed è un errore. Il Presidente del Consiglio non deve fare l'errore di trasformare quel referendum che è sul cambiamento dell'assetto istituzionale del Paese in un referendum su se stesso. Mai fare questo errore, né da parte delle opposizioni né da parte del Presidente del Consiglio. Gli italiani giustamente saranno chiamati a decidere se questo Paese può essere cambiato oppure no. Se ancora una volta per vent'anni ci siamo riempiti la bocca che non volevamo più il numero di parlamentari così come ce l'abbiamo oggi, che la dobbiamo smettere con un sistema del bicameralismo perfetto dove Camera e Senato si rimbalzano le leggi anziché approvarle in sei mesi le approvano in due, tre, quattro anni. Se vogliamo diventare un Paese moderno oppure no. Abbiamo lavorato insieme, tutti insieme, non solo il Partito Democratico, area popolare, molti amici di altri schieramenti che hanno capito che questa legislatura doveva essere finalmente una legislatura che cambiava l'Italia e che cambiava l'assetto istituzionale. Gli italiani decidano su questo, non devono decidere se mandare a casa Renzi oppure no o se fare l'ennesima un giorno sì o un giorno sì mozione di sfiducia. Credo che ne abbiamo piene le scatole tutti, di derby, di tifoserie che si scontrano. Entriamo nel merito e a ottobre, come giusto che sia, gli italiani decideranno se l'Italia deve guardare al futuro o rimanere ancora ferma. Intanto alla fine degli incentivi sembra sgonfiare il Jobs Act, Renzi si prepara a celebrare la giornata della fine del LIMU, però le tasse in sei anni sono aumentate di 29 miliardi. Anche questo è un esempio molto concreto e la ringrazio della domanda perché mi dà la possibilità di far capire a chi ci sta guardando la ragione per cui noi come area popolare, Milano popolare, Roma popolare abbiamo deciso in questi tre anni di sostenere un governo che non è un governo monocolore del Partito Democratico, ma ce lo siamo già dimenticati, è un governo di larga intese dove destra e sinistra, centro-destra e centro-sinistra cercano di dare il loro contributo per cambiare l'Italia. Noi ci siamo presentati quante volte noi di centro-destra abbiamo detto che uno dei temi per migliorare l'occupazione era dare spazio alle imprese, liberarci dalla burocrazia e mettere zero, era la nostra proposta, zero tasse per chi assume. Il Jobs Act e in particolare i provvedimenti che ne sono conseguiti hanno dato questa possibilità. Per un anno noi abbiamo permesso a chi assumeva, giovani disoccupati, di pagare per tre anni zero contributi sul lavoro. Abbiamo introdotto la flessibilità, abbiamo lavorato, cioè introdotto nel nostro Paese proprio su quelli che sono i fondamenti di una società liberale, di una società che pensa che il lavoro non lo dia lo Stato, che il lavoro non è fatto di rendere il pubblico come assumificio, ma il lavoro lo fanno le imprese. I risultati iniziano ad esserci, dovremmo rimboccarci le maniche e farlo ancora di più. L'Imu, abbiamo sempre detto, è stata la nostra battaglia ed è la ragione per cui noi siamo stati in questo governo, che tassare la prima casa era un gravissimo errore, perché l'Italia è diversa da tutti gli altri Paesi e perché la casa è il luogo dove la famiglia svolge la propria vita. Finalmente nel 2016 non ci sarà più L'Imu, credo che dovremmo essere contenti. Chi è di centrodestra e chi è di centrosinistra, invece come al solito dobbiamo sempre trasformare tutto in polemiche. L'altro tema pressante sono le pensioni, anche per la discussione che c'è sul turnover e la disoccupazione specialmente giovanile, però le ipotesi di flessibilità restano vaghe, che cosa succede? Beh, intanto il Presidente dell'Ips faccia il Presidente dell'Ips e la smetta di fare politica, se no si tolga la giacca del Presidente dell'Ips e si faccia eleggere e venga in Parlamento. Detto questo noi abbiamo un compito vero, io ho tre figli, devo lavorare perché i miei figli possono avere la stessa sicurezza di welfare, cioè di protezione sociale che i miei genitori mi hanno dato. Purtroppo il problema nel futuro non sarà questo, allora dobbiamo avere il coraggio non di far pagare allo Stato, che poi sono i cittadini, sempre il futuro dei nostri figli, ma di creare un sistema che permetta tra, come avviene da altre parti, pensioni integrative che devono essere tassate, risorse che devono essere messe, una solidarietà che permetta a chi è meno giovane, ma a chi è più giovane di avere la stessa prospettiva del futuro. Lavoriamo insieme su questo, le pensioni riguardano il futuro di tutti noi, credo che anche su questo dovremmo concretamente trovare le soluzioni per dare certezza a tutti gli italiani.